salve a tutti oggi voglio mostrarvi come si fa l'update della deluge visto che è appena arrivato uno nuovo e come fai a saperlo perché se l'hai comprata ti sei scritto nella news mail e ti arriva una mail con un nuovo update quindi si apre la link della mail lo si scarica si tira fuori la schedina dalla delhi tac e si mette dentro il computer ecco qua poi ci si assicura che sopra non ci siano i firmware vecchi il file firmware vecchio se c'è lo si cancella prima si va in download si copia il file del huge firmware ora non ve lo faccio vedere tanto un secondo penso che lo sapiate fare tutti quanti e lo si copia dentro la cartella root proprio nella prima cartella della schedina sd poi si espelle dai zitta la schedina si rimette nella deluge nella deluge va dentro al contrario fate attenzione perché potrebbe cadervi dentro quindi tac poi per applicare l'update si tiene per molto shift e si accende la delhi e dai comincia a fare la sua motion rotante dell'update questo è un update minore alcune bug fix alcune frizz che stava stava facendo a me dall'ultimo update da quello ancora precedente non si era più frizzata neanche una volta è stabile è stabile come macchina è stabile se per caso c'è qualche problema loro ci stanno tanto dietro ed eccoci qua perfetti perfetti au revoir a tutti